Batteria portatile, caricata in macchina con pannello fotovoltaico, qui abbiamo collegato i due morsetti, vanno in questo amplificatore, vediamo se riusciamo a inquadrarlo, trasformiamo i volt a 17, 1 euro e mezzo, li mettiamo qui dentro gli MC4 e facciamo vedere al regolatore di carica come se fossero dei pannelli, adesso il sole non c'è più e carichiamo, ok? Perciò adesso fino a tutta la notte, piano piano, lui mi carica 35 watt fino a domani mattina, domani mattina si scarica la batteria, la rimetto in macchina e la ricarico, ciao a tutti!